L'iniziativa è un trionfo della partecipazione che fa capire quando i cittadini sono piaciuti di un'operazione, quando i cittadini capiscono che il lavoro fatto per loro contribuiscono. La partecipazione è fondamentale e questa cultura che è piuttosto anglosassone, che si dice spesso che non è nella cultura mediterranea, abbiamo dimostrato che non è vero, che a Napoli i napoletani prendono il loro destino personale, il loro bosco, in cura e seguono la cura del bosco, a quella abbiamo dato il tono già un anno fa. E fa molto piacere avere questo gesto positivo che non è altro che un contribuito al bene pubblico.